L'anno scorso, durante il workshop 2009 Scenari Possibili, è stato trattato come tema la casa albergo. Quest'anno siamo tornati a Torre Orsaia e abbiamo ritrattato questo tema tentando di immaginare dei nuovi scenari. L'operazione che abbiamo fatto è quella di smontare e rimontare l'immagine della casa albergo. Smontare significa smontare l'immagine che attualmente c'è della casa albergo, ovvero di edificio abbandonato e incompleto. Montare e anche rimontare significa far vedere i possibili scenari. Quello che pensiamo che non c'è un unico scenario, non ne riproponiamo tre, ma in realtà sono più di tre. Quello che vorremmo è che i cittadini, la popolazione e anche le amministrazioni locali componessero il proprio scenario. Dopo il workshop quello che ci aspettiamo è che venga rivalutata l'idea di questo edificio abbandonato. Magari con una nostra idea, un nostro input e oltre all'input che viene dato dalla popolazione e dai cittadini, riutilizzare, se non del tutto, anche solo in parte, la casa albergo. Speriamo che ci sia un input nel fare, ovvero nel fare di questo posto un qualcosa. Speriamo che tra i vari scenari che proponiamo ci sia qualcosa che stimoli l'amministrazione a occuparsi di questo corso. Speriamo che i cittadini vedano in qualche funzione qualcosa di fattibile e riconoscibile in questo posto, così che dare una nuova funzione, dare una nuova vita alla casa albergo.